I primi movimenti di mercato del Napoli iniziano dopo la fine della stagione. In attesa dell'apertura ufficiale della sessione estiva di calciomercato, gli azzurri ripartono dalle proprie certezze. Uno di questi è rappresentato da Giovanni Simeone l'attaccante argentino è stato riscattato dall'Ellas Verona, diventando così un giocatore del Napoli a titolo definitivo. Napoli, l'ufficialità su Simeone questo il comunicato ufficiale club azzurro la SSC Napoli comunica di aver esercitato l'opzione per l'acquisto, a titolo definitivo, dall'Ellas Verona, delle prestazioni sportive del calciatore Giovanni Simeone fino al 30 giugno 2026 con facoltà di prolungare il contratto da parte club fino al 30 giugno 2027. Napoli, fatta per il riscatto di Colito Simeone la scorsa estate il Napoli ha portato Simeone alla corte di Spalletti con un prestito oneroso, fissato a 3,5 milioni di euro. Adesso ce ne sono voluti altri 12 per esercitare il diritto di riscatto entro la scadenza fissata, già fissata nella scorsa sessione estiva di calciomercato. Il Napoli ha quindi voluto rinnovare la fiducia a Colito, che un anno da vice Osimeone è riuscito a segnare 9 gol in 33 presenze, di cui 4 Champions League.